Vipan aveva 35 anni, sua moglie 24, la figlia ne aveva 9. Loro sono morti tutti sei mesi fa. Adesso quella famiglia siete voi. State bene qui tu e tuo marito? Tu sei felice? Sì. Lei non è mia figlia. Lui non è mio marito. È tutto finto. Chi sono quelli? Dei balordi. Non voglio problemi nel mio quartiere. Oddio Ganesh. Ti supplico di vegliare su di noi. E fa che tutto alla fine vada bene. Voglio restare con voi. Non mi lasciate. E' solo che unguile. E' come c'è un gruppo di spune. Grazie a tutti.